Nella sera del 6 maggio, un equipaggio della squadra volante della Questura, veniva inviato dalla centrale operativa presso l'ospedale in quanto un uomo, classe 1988, noto alle per i suoi numerosi precedenti di polizia e sottoposto a regime della detenzione domiciliare, si era messo in contatto con il numero di emergenze accusando un malore e comunicando che si sarebbe portato per ricevere le cure mediche presso il nosocomio. Giunti sul posto, tuttavia... Abbonati a soli 9,90€ all'anno! Autosalone tedeschi, concessionari a Suzuki per il VCO, a piedi mulera.